Bentornati a Gussibus, tra le ragazze dell'Italian Chef Academy di Roma c'è il nostro ospite speciale, Anthony Pett, benvenuto! Buongiorno! Anthony, tu sei un conduttore televisivo, un regista, hai lavorato come inviato per diverse reti italiane, ma qui ricopri prima di tutto un ruolo fondamentale per quanto riguarda il Made in Italy, ce lo racconti? Tre anni fa mi è arrivata la proposta di rappresentare l'Italia nel mondo con un progetto molto bello, che riguardava circa 100 aziende che avevano ricevuto i fondi dell'Unione Europea per l'internazionalizzazione e quindi è nato questo lungo tour in tanti paesi del mondo che ho avuto modo di conoscere, ma soprattutto capire che le nostre eccellenze sono tanto amate. Quindi come vengono accolte le eccellenze italiane nel mondo? Vengono accolte molto bene, tra l'altro tutte queste aziende hanno iniziato nell'atto pratico a distribuire in tutte le catene alimentari e quindi Italia da gustare, Italia più bella. E in quale paese hai riscontrato maggiore entusiasmo? Beh sicuramente il paese dove ho riscontrato maggiore entusiasmo è stato il Brasile, esattamente a San Paolo. Pensa ti racconto un aneddoto, in ogni tappa io incontravo i consoli del posto, a San Paolo il consolo era sardo come me, quindi è nata una grande empatia. Samba e felicità. Samba, felicità, tante cene soprattutto rigorosamente con i prodotti del Made in Italy. Anthony da questa puntata iniziamo una nuova collaborazione con te che ti vedrà in giro per l'Italia a raccontare, in realtà hai già iniziato no? Sì. E racconterai, che cosa farai? Racconterai le storie di tutti quei piccoli produttori di eccellenza che costituiscono la vera ricchezza del nostro paese. Sì, io ho notato una grande cosa che poi lo vedremo nei vari servizi di questi piccoli produttori, queste piccole entità che hanno un connubio in comune fra loro, una grande storia da raccontare, una grande passione che verte in tutto quello che producono, quindi ci divertiremo, vedremo questi servizi con delle bellissime storie. Hai riscontrato qualche connotato in comune fra loro? Sì, sì, sì. Il grande sacrificio, sicuramente il connotato in comune, ma soprattutto la grande dedizione nel curare nel minimo dettaglio tutta la preparazione fino ad arrivare al prodotto finito che poi tutti quanti noi italiani mangiamo. Ok. È arrivato il momento di scoprire da dove parte questo tuo viaggio, dove sei stato? Il primo viaggio parte vicino Roma, ad Artena, che è una bellissima località con una grande storia. Quale migliore occasione iniziare questa nuova avventura a Gustibus? Proprio da lì, da una realtà di un panificio che ha tanti, tanti anni di storia alle spalle. Bene, Anthony, so che devi ripartire, per cui ti lascerei andare e intanto vediamo dove ci hai portati nella tua prima storia. Artena, una graziosa cittadina in provincia di Roma, arroccata su un costone calcario nell'estremità meridionale dei castelli. Mi trovo qui per raccontarvi una storia di eccellenza italiana, quella di un ragazzo che a 15 anni, durante le vacanze estive, inizia lavorare nel forno degli zii, per diventare quello che è oggi. Ivan, il re del pane! Eccoci Ivan! Ciao Anthony, come stai? Bene? La tua storia mi ha colpito molto, perché potresti essere un ottimo esempio per gli adolescenti di oggi, ma tu, che 15 anni sei stato? 15 anni già mi davo da fare, nel senso ho sempre lavorato. Andavo a scuola e il mio obiettivo era diventare geometra. A 15 anni, durante il periodo estivo, davo una mano ai miei zii, che ho tanti zii che hanno un panificio. Solo nel 99 incomincio a vendere il pane, negozio per negozio, e nel 2002 apro il primo panificio all'Ariano. Nel 2005 apro il panificio qui, molto grande all'Artena, ma la mia svolta è stata solamente nel 2010, quando incomincio, sempre per gioco, a coltivare due ettari di terreno a cereali e divento il primo panificio in Italia a chilometro zero. Comunque, se mi segui ti faccio vedere. Eccoci finalmente nel tuo regno. Ivan, che cosa succede? Praticamente qui, la mattina, svolgiamo il lavoro della biscotteria secca. Successivamente c'è la lavorazione della pasta. Come ultima lavorazione facciamo la lavorazione del pane. Ecco, parliamo della pasta. Che tipo di pasta producete voi? Le ultime due mie novità sono le fetturtiche e le fettubirre. La fetturtica è una fettuccina sempre con farina poco raffinata, ma con ortica selvatica. Invece la fettubirra è una fettuccina a doppio malto, senza uovo, con farina sempre poco raffinata. E invece la cosa succede? Vieni che ti faccio vedere. In questa seconda stanza facciamo lievitare il pane. Qui sotto c'è lo starter della nostra lievitazione. Questa è una pasta madre, una pasta di circa 80 anni che viene tramandata dai miei zii, dai miei nonni. Se non sbaglio tu hai brevettato ben tre tipi di pane, giusto? Sì, il mattonella, che è un pane a lievitazione naturale, lievitato 72 ore, con farina grezza. Poi c'è il mocaccino, una lievitazione naturale con farina a tutto corpo, cioè tutto il chicco del grano. E il terzo pane che prende nome dal nostro territorio, d'Artena, il paese dei briganti, è un pane di 11 cereali, sempre di razione naturale. Ecco il forno vero e proprio, Eva. Sì, la nostra caratteristica è la cottura. La cottura viene effettuata con maniere di con fascine di castagno. Queste fascine, a contatto con il mattone refrattario, rilasciano tutto il profumo del bosco, che solo dopo verrà catturato dal nostro pane. Pieno controllo delle materie prime, cereali a chilometro zero, lavorazione artigianale realizzata con cura meticolosa e piena valorizzazione degli ingredienti. E tutto questo a fare del pane di Ivan una vera eccellenza del Made in Italy. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.